buongiorno a tutti e ben ritornati sul mio canale tutto dal web beatrice luzzi e il suo nuovo cambio look sappiamo ragazzi che una delle protagoniste più amate di questa edizione del grande fratello è proprio lei beatrice fin dai primi giorni l'attrice ha infatti saputo entrare nel cuore del pubblico di canale 5 ed è supportata da tantissimi fan sul web è ancora amatissima e continua a risultare essere una una delle concorrenti più sostenute ma non solo in molti infatti la vedono anche come una possibile vincitrice di questo reality e di certo nelle prossime settimane continuerà a regalarci grandi emozioni in queste ore però beatrice ha fatto qualcosa di impensabile qualcosa di veramente strano come vi dicevo infatti all'inizio video ha cambiato look grazie all'aiuto infatti del nuovo concorrente stefano miele beatrice ha deciso di diventare da riccia a riscia e naturalmente le immagini della sua trasformazione hanno fatto in breve tempo il giro del web quindi nuovo look per beatrice di fine anno che nel mentre continua a godersi il suo percorso all'interno della casa oggi infatti nel corso della nuova diretta del grande fratello con ogni probabilità l'attrice potrebbe essere nuovamente la protagonista di questa puntata come sempre e come ogni sabato voi cosa ne pensate scrivetemelo giù nei commenti lascia il mio like se ti va e iscriviti al mio canale io ti aspetto per questo ma per tanti altri prossimi video